Il mondo dello sport e del calcio Nello specifico è in lutto per la scomparsa di Totò Schillaci A causa di una brutta malattia Era stato l'eroe di Italia 90 Il bomber delle notti magiche Da oggi le notti saranno un po' meno magiche Il calcio infatti è in lutto per la scomparsa di Salvatore Schillaci Per tutti, semplicemente Totò Icona degli anni 90 E' stato l'eroe dei mondiali disputati in Italia Ricoverato al civico di Palermo da giorni Schillaci si è spento a causa di una brutta malattia Che aveva affrontato a testa alta Così come faceva in campo Aveva 59 anni Palermitano, cresciuto calcisticamente nel Messina Ha indossato le maglie di Juventus e Inter Chiudendo poi la carriera in Giappone 120 presenze e 37 gol in Serie A 105 e 39 reti in Serie B In mezzo i sei storici sigilli del Mondiale del 90 Che lo consacrarono nel grande calcio Capo cannoniere del torneo E secondo posto nella classifica del pallone d'oro di France Football Dopo il tedesco Lothar Matthäus Dopo il ritiro dal calcio giocato Totò Schillaci ha preso parte ad alcune trasmissioni televisive di grande successo Prima l'isola dei famosi Poi Pechino Express Amatissimo dagli italiani Non soltanto dagli amanti del calcio Totò lascia un vuoto e un ricordo positivo di sé Dello sportivo del personaggio che è stato La camera ardente del campione siciliano Sarà allestita allo stadio Renzo Barbera di Palermo Qui tutti potranno ricordare e salutare per l'ultima volta Il bomber della nazionale L'eroe delle notti magiche Colui che quel male era riuscito a driblarlo più volte Un 42enne è stato invece arrestato dai carabinieri a Palermo Aveva infatti sequestrato, picchiato e violentato la compagna Vediamo tutti i dettagli nel servizio I carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi Hanno tratto in arresto un 42enne palermitano Già noto alle forze dell'ordine Presunto responsabile dei reati di sequestro di persona Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali Commessi nei confronti della sua compagna I militari dell'arma sono intervenuti dopo che la donna ha chiesto aiuto Tramite il numero unico di emergenza 112 Raccontando di essere stata picchiata e sequestrata dal compagno I carabinieri, attivate le dovute verifiche Hanno iniziato le ricerche del soggetto che nel frattempo era fuggito Gli esiti delle prime indagini hanno delineato i contorni Di quella che sembrerebbe essere una grave vicenda La donna, nella notte precedente alla chiamata Sarebbe stata sequestrata dal 42enne Presso l'abitazione dove i due convivevano E per circa 20 ore Sottoposta a minacce di morte Torture, aggressioni fisiche Tentativi di soffocamento Limitazioni della libertà di movimento Nonché violenze di natura sessuale Approfittando di un momento di distrazione dell'uomo La giovane è riuscita a fuggire e chiedere aiuto I carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Palermo Hanno attivato le procedure d'urgenza Previste dal cosiddetto Codice Rosso E una volta rintracciato il soggetto Hanno operato l'arresto in flagranza differita Del presunto responsabile L'indagato è stato associato Presso la casa circondariale Lorusso Pagliarelli In attesa dell'udienza di convalida L'arresto è stato poi convalidato Dal giudice per le indagini preliminari Del Tribunale di Palermo Tentano di introdurre droga e cellulari Utilizzando un drone all'interno del carcere Due le persone fermate a Caltanissetta I finanzieri dei GICO di Caltanissetta e Catania Hanno individuato e tratto in arresto due persone Le quali, nei pressi della casa circondariale Nissena Intendevano utilizzare un drone Per recapitare all'interno del penitenziario Un involucro contenente sostanze stupefacenti E numerosi telefoni cellulari L'operazione delle fiamme gialle Ha consentito di seguire le mosse Dei due soggetti giunti da Catania In auto con uno zaino Contenente un drone E dieci telefoni cellulari Di piccolissime dimensioni Oltre a 100 grammi di marijuana E 150 grammi di hashish Sono stati inoltre sequestrati Quattro smartphone Nella disponibilità dei due arrestati Nella vettura sono stati anche trovati 5.000 euro in contanti Occultati sotto lo sterzo dell'auto Che dovevano costituire il compenso Per il pilota del drone Gli indagati sono stati trasferiti in carcere Il GIP ha convalidato l'arresto Disponendo la misura cautelare Della custodia in carcere per uno E la detenzione domiciliare Con presidio elettronico per l'altro Ci spostiamo a Messina Parliamo in questo caso di truffa E reati fiscali Sono stati confiscati beni Per 12 milioni di euro A un noto professionista Il Tribunale di Messina Gruppo Misure di Prevenzione Ha emesso due decreti di confisca Per oltre 12 milioni di euro Nei confronti di due indagati Nel primo caso La DIA ha confiscato beni A un noto professionista operante Nell'area nebroidea Coinvolto in numerosi procedimenti penali Per truffa finalizzata Al conseguimento di erogazioni pubbliche Reati fiscali Riciclaggio E autoriciclaggio Dagli atti giudiziari Emerso come l'uomo Avrebbe frodato Consistenti contributi Di natura pubblica Compresi incentivi Previsti A favore delle attività produttive Delle aree depresse Così realizzando Un imponente arricchimento personale La misura ablativa Riguarda nove imprese Operanti nel campo Dell'assistenza fiscale Dell'assistenza agli anziani E in quello immobiliare Sette appartamenti Un fabbricato E 17 terreni Situati nelle province Di Messina e Palermo Oltre a decine Di rapporti finanziari Per un valore complessivo Di circa 12 milioni di euro L'altro decreto di confisca Eseguito dai carabinieri Ha riguardato beni Riconducibili a un pregiudicato Messinese Attualmente detenuto Sottoposto anche alla misura Di prevenzione personale Della sorveglianza speciale Con obbligo di soggiorno La confisca Ha riguardato sei abitazioni E un terreno agricolo Situati a Messina Oltre a cinque veicoli Per un valore complessivo Stimato In circa 350 mila euro Parliamo adesso di influenza Cambiamo dunque argomento Sono stati autorizzati Otto nuovi vaccini Sono otto i vaccini Autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco E dall'Agenzia Europea Per i Medicinali Contro l'influenza stagionale Come ogni anno I ceppi virali Sono stati aggiornati Secondo le raccomandazioni Dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Basate sulle caratteristiche Antigeniche Dei ceppi virali Circolanti Nell'ultima stagione Come spiegato dall'AIFA In una nota I vaccini autorizzati Dall'Agenzia Italiana Con procedura di mutuo riconoscimento E decentrata Sono Efluelda Tetra Fluarix Tetra Influvac S Influvac S Tetra E Vaxigrip Tetra Mentre quelli autorizzati Con procedura centralizzata Sono Fluad Tetra Flucial Vax Tetra E Fluence Non tutti sono necessariamente Disponibili sul mercato Precisa l'AIFA Le regioni infatti Decidono annualmente Tramite gare Per la fornitura di vaccini Tra i prodotti disponibili In commercio Quelli che verranno utilizzati Durante le campagne vaccinali Il Ministero della Salute Ha raccomandato Di condurre le campagne Di vaccinazione regionali A partire dall'inizio di ottobre L'AIFA ricorda inoltre Che la vaccinazione È raccomandata È offerta attivamente E gratuitamente Tra gli altri A chi ha compiuto 60 anni Alle donne in gravidanza E nel postpartum Ai bambini di età compresa Tra i 6 mesi E i 6 anni E a chi è affetto Da malattie croniche Che espongono A un maggior rischio Di complicanze In caso di influenza Alle persone ricoverate Presso strutture Di lungodeggenza Ai familiari Di soggetti Ad alto rischio Di complicanze Agli addetti Ai servizi pubblici Di primario interesse collettivo Quali medici E personale sanitario E socio assistenziale E infine forze di polizia E vigili del fuoco Si è conclusa La terza edizione Del raduno equestre Alla scoperta Del parco archeologico Di Segesta E dei luoghi storici Della provincia Di Trapani Si è conclusa La terza edizione Del raduno equestre Organizzato Dall'associazione ASD Nuovo gruppo Equestre Monte Erice In collaborazione Con Fitetrec Ante Comitato regionale Sicilia Pantalica E il parco archeologico Di Segesta L'evento Inserito nell'ambito Dell'iniziativa Italia a cavallo Promossa dalla Federazione Italiana Turismo Equestre Trek Ha visto la partecipazione Di 91 cavalli Offrendo ai partecipanti Un'esperienza Tra natura Storia E cultura Le razze equine Presenti Note Per la loro resistenza Su terreni difficili Hanno dimostrato Grande empatia E capacità Di adattamento Instaurando Un forte legame Con i cavalieri La tradizione culinaria È stata protagonista Grazie a Rosi Napoli Dell'associazione Lady Chef Sicilia E Salvatore Adragna Dell'associazione Provinciale Cuochi E Pasticceri Trapanesi Che hanno preparato Piatti tipici Del territorio Il raduno equestre Si conferma Un appuntamento Per gli amanti Della natura E del turismo A cavallo Penso che Si è andata Benissimo I cavalieri Si sono divertiti Tantissimo Ringrazio Il presidente nazionale E il commissario regionale Che mi ha dato Questa fiducia Per organizzare Questa unica tappa In Sicilia Ringrazio Anche Lady Chef Che è stata Il tramite Anche Di una degustazione All'interno del parco Il direttore Del parco Archeologico L'architetto Luigi Biondo Che ci ha dato Anche questa Grande disponibilità Per essere qua Presente In questo In questo posto Bellissimo È unico È magico Perché La storia Lo dice Il percorso Nelle due giorni È andato benissimo I cavalieri Si sono rilassati Avevamo Un numero Abbastanza Proponente 50 cavalli Però è andato bene Ci siamo divertiti Penso che È da ripetere Indubbiamente Ho avuto Il consenso Da parte Di tutte le persone Che hanno partecipato A questo evento Settembre È ancora Tempo di vacanze Per qualche italiano Uno su quattro Preferisce Le eco vacanze Vediamo di che si tratta Un italiano su quattro Pratica il turismo Sostenibile Con un trend Spinto Dalla crescente Sensibilità Verso il rispetto Dell'ambiente La necessità Di ridurre Il consumo energetico Puntando a tavola Sul chilometro zero Sulla dieta mediterranea E sul biologico Ma anche scegliendo Strutture ricettive green E questo quanto emerge Dal rapporto Col diretti Noto sondaggi Presentato A Palazzo Rospigliosi A Roma Con l'incontro È stata allestita Una mostra Con piatti green Delle diverse regioni Preparate Dai cuochi Contadini Di terra nostra E campagna amica Lo studio Ha evidenziato Che se la percentuale Di turisti italiani Che scelgono Le ferie sostenibili È praticamente Raddoppiata Nello spazio Degli ultimi dieci anni Dal 12% Al 25% Allora è cresciuta Anche la sensibilità Verso i singoli Aspetti Della vacanza Quasi sei italiani Su dieci Dichiarano Di porre attenzione A fare scelte Che non danneggino L'ambiente Al momento Di pianificare La vacanza Dalla meta Al mezzo Di spostamento Fino al tipo Di struttura Da prenotare Gli analisti Sottolineano Che tra i servizi Offerti La presenza Di menù A chilometro zero E a base Di prodotti bio È indicata Come la prima Caratteristica A qualificare Il rispetto Dell'ambiente Di una struttura Ricettiva Davanti al riciclo Dei rifiuti La ricerca La ricerca Rileva inoltre Che al ristorante Le specialità Locali E biologiche Godono Di una maggiore Popolarità Rispetto ai menù Vegetariani E vegani Che continuano A rappresentare Una nicchia Di mercato Con la maggioranza Dei consumatori Che non considera Questi ultimi Fattori Determinanti Nella scelta Di un locale Dove mangiare Col diretti Sottolinea infine Che il cibo E i prodotti Eno gastronomici Italiani Continuano ad essere Considerati Un pilastro Del turismo Nazionale Con il 95% Dei cittadini Che li reputa Fondamentali Per attrarre Turisti Mentre il 70% È favorevole Al consumo Di cibi A chilometro zero E il 73% Preferisce Seguire i principi Della dieta Mediterranea Considerata Più sostenibile E salutare Parliamo di un fenomeno Tutt'altro Che è positivo Ovvero lo spreco Di cibo Il più delle volte La dieta Mediterranea Finisce nel cassonetto Cresce del 45,6% Lo spreco Di prodotti Alimentari In Italia Nel 2024 Ogni settimana Finiscono infatti Nel bidone Della spazzatura 683,3 grammi Di cibo Pro capite Rispetto Ai 469,4 grammi Rilevati Nell'agosto 2023 Nella top 5 Ci sono Frutta fresca Verdure Pane fresco Insalate Cipolle Aglio Tuberi Vale a dire I prodotti Principe Della dieta Mediterranea E questo Quanto emerge Dal rapporto Internazionale Waste Watcher 2024 Lo spreco Alimentare Nei paesi Del G7 Dall'analisi All'azione Curato Dall'osservatorio Waste Watcher International Campagna Spreco Zero Dall'Università Di Bologna Insieme a Ipso Con l'obiettivo Di attirare L'attenzione Del prossimo G7 Agricoltura Sul tema Del fine vita Dei prodotti Alimentari Il dato In crescita Secondo il rapporto Indica una cattiva Gestione Della spesa Familiare Con i relativi Sprechi Economici Ma evidenzia Anche un incremento Dei consumi Alimentari E una domanda Concentrata Su alimenti Di qualità Inferiore Influenzata Dalle logiche Low cost Indipendenti Dal comportamento Dei singoli Il 42% Degli intervistati Individua La causa Dello spreco Nel fatto Che frutta E verdura Conservate Nelle celle Frigo Una volta A casa Va subito A male Il 37% Li butta Perché i cibi Venduti Sono già vecchi Elementi critici Anche nel comportamento Dei consumatori Il 37% Degli italiani Dimentica Gli alimenti In frigo E nella dispensa Lasciando Che si deteriorino Solo il 23% È disposto A programmare I pasti settimanali E inoltre Il 75% Non è disposto O non è capace Di rielaborare Gli avanzi In modo creativo Per evitare Di gettarli via Quanto infine Alla mappa Degli sprechi Sud e centro Sono le aree Dove il fenomeno È superiore Del 9% Rispetto Alla media Nazionale Mentre il nord È relativamente Più virtuoso Con meno 11% Sempre rispetto Alla media Nazionale Per il momento È tutto A più tardi Per un nuovo appuntamento Con Spazio Notizia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti